Salve a tutti ragazzi, sono Roberto e oggi iniziamo una serie di tutorial in lingua italiana per aiutare tutti coloro che non hanno molta dimestichezza con la lingua inglese, visto che la maggioranza dei tutorial che troviamo in rete sono in lingua inglese, e a volte c'è un po' di difficoltà magari nell'apprendimento di questi tutorial. Il nostro scopo è proprio quello di aiutare tutti coloro che si stanno avvicinando al mondo iOS, in modo particolare iOS 8, proprio per apprendere nella propria lingua certe informazioni. Andiamo subito con la prima fase di creare un'app. Vogliamo premettere solo una cosa, che con Xcode 6 è cambiato tantissimo, sia dal punto di vista di linguaggio, con il nuovo linguaggio Swift, è cambiato molto anche proprio nello storyboard, quindi alcuni aspetti sono cambiati. Sono cambiati anche i device, prima avevamo solo due o tre dimensioni di device, adesso ne abbiamo ben cinque, sei, e probabilmente fra non molto avremo anche le dimensioni del nuovo Apple Watch. Quindi è un mondo che si evolve giorno dopo giorno, quindi dovremmo cercare di avvalerci di quelle che sono le ultime novità. Bene, iniziamo subito con uno dei primi aspetti di quando si crea un'applicazione, ed è quando noi lanciamo un'applicazione. Più delle volte quando si lancia un'applicazione, si apre un'applicazione, la prima schermata che vediamo è proprio quella del launch screen, ossia dove viene magari messo il nome dell'applicazione, il logo di chi l'ha costruito e il copyright di appunto chi ha sviluppato quell'applicazione. Bene, andiamo ad aprire subito Xcode, andiamo a creare un nuovo progetto e andiamo a cliccare Single View Application. Clicchiamo Next, andiamo a digitare il nome, in questo caso proprio digitiamo launch screen, scusate, launch screen. Lasciamo invariati tutti quanti questi nomi qui e anche il language oggi non ci serve, neanche il device lasciamo tutto invariato in Swift e Universal. Clicchiamo Next, andiamo a salvarlo nel desktop o in un file che è una cartella che abbiamo deciso in precedenza. Allarghiamo un attimino la view di Xcode e andiamo a cliccare sullo storyboard. Come notate la view dello storyboard è cambiata rispetto a Xcode 5. Questo lo approfondiremo poi nel prossimo tutorial, proprio andremo a vedere come andare a modificare o come semplificare quello che è la costruzione di un'app. C'è da premettere una cosa. Nell'Xcode 5, quando volevamo lanciare un'immagine, un logo, un qualche cosa, prima che l'applicazione in realtà funzionasse, c'era da fare dei passaggi non indifferenti. Perché? Perché c'era da creare tutto un aspetto grafico di alcune immagini che fossero in PNG o in un diverso formato e andarle a inserire poi dopo nel launch screen che c'era nel settore appunto delle immagini. Adesso Apple ha semplificato questo col nuovo Xcode 6. Notiamo che abbiamo qui un XB e launch screen ed è proprio questo. Di fatti, anzi, ritorniamo un attimino allo storyboard e per semplificare quello che poi dopo quando lanciamo l'applicazione andiamo a cambiare il colore del background. In questo caso gli diamo un blu. Ok. Adesso apriamo appunto launch screen. Se apriamo un launch screen notiamo che questo XB che abbiamo qui è già preimpostato da Apple. Cosa significa? Significa che riporta lo stesso nome che noi abbiamo dato qui al target. Di fatti notiamo che qui gli abbiamo dato al nome dell'applicazione launch screen automaticamente nell'XB viene evidenziato appunto questo nome. Inoltre viene già inserito il copyright in questo caso appunto del 2014 l'anno in cui viene costruito il nome del team quindi coloro che lo stanno realizzando e appunto tutti i diritti riservati. Se andiamo adesso a lanciare quello che è il nostro simulatore in questo caso iPhone 6 notiamo che all'apertura viene lanciato proprio il launch screen automaticamente quindi non c'è bisogno di fare nulla fa direttamente tutto quanto infatti lo notiamo fa tutto quanto appunto l'applicazione e poi dopo si apre nella View. Però indubbiamente alcuni non sono soddisfatti di quello che è il lancio di questa applicazione vorrebbero magari modificare andare a modificare magari i colori il testo o diciamo il font di alcune cose o andare a inserire alcune nozioni riguardo a questo. Andiamo quindi a cliccare nella View e andiamo a modificare innanzitutto il background quindi il colore della View. in questo caso gli diamo un orange ok è già un pochettino più colorito andiamo a cliccare nella label appunto di launch screen e in questo caso evidenziamola e andiamo a cambiargli il colore gli diamo un bianco dove risalta molto di più. non ci piace questo bold andiamo a cliccare se si apre appunto questo eccolo qui system andiamo su custom e gli diamo un tin che è classico appunto di iOS 8 stessa cosa andiamo nella label sotto del copyright gli cambiamo il colore se vogliamo possiamo andare anche a modificare il testo in questo caso andiamo a modificare da Roberto Adami digitiamo Adami Developer e automaticamente notiamo che è stato modificato direttamente questo se andiamo a lanciare adesso il nostro simulatore notiamo che è cambiato appunto la schermata iniziale però non ci soddisfa questo vogliamo inserire quello che potrebbe essere il nostro logo quindi in questo caso andiamo in Image View trasciniamo all'interno della view la nostra immagine andiamo a modificare le dimensioni e quindi apriamo qui appunto Size Spectre gli diamo 100 e 100 andiamo a vincolarlo al centro della nostra view e a questo punto dal desktop andiamo a trascinare un'immagine che abbiamo già preparato in anticipo in Xcode accertiamoci solo di che sia spuntata la casella appunto del copy quindi se lo troviamo quando apriamo quando trasciniamo appunto l'immagine la troviamo in questo modo spuntiamola e diamogli ok bene adesso ritorniamo qui apriamo l'immagine e andiamo a selezionare l'immagine che abbiamo trascinato e qui abbiamo la nostra icona adesso c'è un problema abbiamo detto prima che con il nuovo Xcode con i nuovi prodotti che Apple ha presentato abbiamo la bellezza di sei dimensioni di screen quindi è un qualche cosa di complicato difatti se noi andiamo a lanciare adesso il nostro simulatore notiamo che le dimensioni rimangono invariate quelle che abbiamo detto prima che sono già state predisposte da Apple però l'immagine che siamo andati a inserire è spostata e non è vincolata come volevamo noi allora se noi andiamo a vincolare adesso per un formato che potrebbe essere ad esempio il 4 pollici o il 3 e mezzo oppure il 4 e 7 e via dicendo andremo ad avere dei conflitti poi dopo con gli altri device allora cosa dobbiamo fare? bene apriamo in questo caso qui alle attributi andiamo in automatic clicchiamo preview e andiamo a vedere che troviamo subito la launch screen in preview qui automaticamente si aprirà in iPhone 4 si ha il 4 pollici e notiamo proprio già qui che l'immagine non è centrata come l'avevamo messa noi nell'XB difatti se andiamo poi dopo nella più qui in basso andiamo a cliccare 3.5 andiamo a cliccare il 4.7 il 5.5 e l'iPad notiamo che tutte quante le view e quindi di conseguenza tutte quante le immagini sono sfalsate non ce n'è una che corrisponda a quello che è il nostro progetto quindi quello che noi abbiamo visto qui non corrisponde poi nella realtà nelle nostre view cosa fare in questo caso? se andiamo a modificare solo per uno non tornerà poi dopo con gli altri quindi a questo punto dobbiamo vincolare quello che è l'immagine a dei bordi che stabiliamo noi a questo punto andiamo a cliccare su l'immagine nella view andiamo ad aprire qui sotto in basso l'autolight e notiamo che abbiamo due categorie uno è dove andiamo a selezionare la nostra view quindi un qualche cosa all'interno di questa XB quindi di questa view oppure potremo andare a vincolare tutto quanto quello che è nella view in questo caso a noi ci interessa solo questo perché? perché Apple ha già fatto il lavoro più grosso diciamo quello del sia del titolo dell'applicazione che del copyright già a priori quindi l'ha già vincolato lui con i constraints quindi cosa facciamo? andiamo a cliccare l'immagine e andiamo adesso a cliccare add missing contents quindi andiamo a vincolare automaticamente questa immagine e come possiamo notare l'immagine è andata a posizionarsi al posto che abbiamo stabilito noi quindi automaticamente su tutti quanti i device anche se andiamo ad aprire quello che potrebbe essere il landscape di qualsiasi formato notiamo che automaticamente si posiziona alla dimensione che abbiamo stabilito noi questo è un'ottima cosa che Apple ha fatto indubbiamente all'inizio alcuni che non conoscevano appunto Xcode attribulavano non poco proprio per andare a posizionare queste immagini perché se le posizionavano per un device non andava a corrispondere poi dopo con l'altro chiudiamo questo andiamo adesso a lanciare il nostro simulatore quindi diamo run e notiamo che automaticamente si va a posizionare al punto giusto che gli abbiamo dato noi quindi questo è un modo molto semplice per poter vincolare quelle che sono le immagini e indubbiamente questo ci servirà poi dopo anche quando andremo a costruire proprio l'app questo era un semplice tutorial per farvi capire quanto sia importante conoscere molto bene Xcode in modo particolare molto bene lo storyboard è vero che i codici sono molto utili perché senza codice non possiamo costruire nessuna app però conoscere molto bene quello che Xcode può fare e lo storyboard indubbiamente aiuterà molto se vi è piaciuto questo video cliccate un like e ci vediamo alla prossima e quindi a tutti quanti good luck grazie a tutti